se penso che io dobbiamo ancora 13 anni ma va bene bene manda a qualsiasi parte tanto non li ferma nessuno ma fermate ho la moto come loro avate giù c'è il vuoto ragazzi lui 34 il più piccolettino ieri è così adesso il capito molto bello il sentiero del crinale giù dal penice io sono andato dritto aio bisogna andare staccati sei un rompipalle bravi ragazzi bravi occhio vabbè ma è scelato vabbè fratrata eh Grazie a tutti. Grazie a tutti.